nome e cognome homo sapiens altezza media un metro e 75 volume del cervello 1400 centimetri cubi speranza di vita circa 80 anni quali continenti hai visitato africa asia europa america oceania antartide chi vince a braccio di ferro lui cibo preferito marubini in brodo strumento preferito smartphone fai una domanda all'altro mi presenti tua sorella e così fu buongiorno 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 Grazie a tutti.